Cancelli e porte blindate proteggevano lo spaccio di droga nell'area dell'8U di via Ghisleria a Scampia, nell'area denominata Ciampa di Cavallo. I carabinieri della compagnia Napolistella sono intervenuti nell'ambito dell'operazione alto impatto ed hanno anche rinvenuto in casa di un camorrista a denaro in contanti, molto probabilmente provento dello spaccio di droga. L'attività più fiorente nel quartiere è divenuto un vero e proprio supermarket di stupefacenti, con sorprendenti risultati anche in altre operazioni. Si tratta di un'attività di perquisizione mirata presso l'abitazione di alcuni soggetti di interesse operativo, nonché una perquisizione a tappeto nelle pertinenze dell'abitazione, cioè gli ascensori, i vani ascensori, sottoscala, scale, tetti, sottotetti. Luoghi sono generalmente utilizzati per occultare sostanze stupefacenti e armi. A questo fine utilizziamo le unità cinofile. Scopo dell'attività, al di là di rinvenire stupefacenti è quello di dare un segnale alla cittadinanza, poiché in quest'area avevano tentato i clan nuovamente di riaprire una piazza di spaccio intensiva, così come era in precedenza, in altre aree che sono attualmente costantemente presidiate da noi e dalle altre forze dell'ordine. Quindi l'importante era intanto debellare il fenomeno all'inizio dello sviluppo, affinché non si potesse ripresentare quei fenomeni che già conosciamo tristemente noti di blindature di piazze e spaccio a livello industriale. La droga viaggiava nel camper infatti ed era giunta a scampia pronta per essere smerciata e immessa sul mercato illegale degli stupefacenti. Ma i carabinieri della locale tenenza durante un controllo di routine hanno intercettato il mezzo a bordo del quale viaggiavano tre persone e dopo un'accurata ispezione hanno rinvenuto ben 20 chili di cocaina all'interno del frigorifero suddiviso in 20 panetti da un chilo. I tre a bordo del camper, Antonio Palumbo di 31 anni di Giuliano, Riccardo Iankovic di 18enne e Nazza Alexis di 27 anni, gli ultimi due residenti nel campo nomadi di scampia sono stati arrestati e la droga è stata sequestrata.